Giampiero Gasperini, non è stata una bella partita, non è stata una bella Atalanta? No, anche se poi nel secondo tempo potremo raddrizzare la partita, abbiamo avuto delle opportunità molto favorevoli, non l'abbiamo fatto, però evidenziamo come sempre delle difficoltà, soprattutto quando troviamo della gente veloce, fresca, pimpante, come lo sono stati loro, soprattutto nella prima parte. Questa è una cosa che c'era già l'anno scorso e forse il risultato dell'anno scorso è l'uso, o ha fatto fare delle valutazioni un po' diverse, però ognuno in queste cose ha le sue valutazioni o le mie. Diciamo che non è stata neanche un'Atalanta fortunata perché ha avuto l'occasione di pareggiarla con Scalvini, non ci è riuscita. Ha avuto con Scalvini, ha avuto con Coppa, ha avuto delle situazioni sicuramente favorevoli, ma anche questo non è per colpa degli avversari, è solamente per una difficoltà nostra, non siamo neanche così lucidi e precisi e realizzativi quando ci capitano delle occasioni. Lei l'aveva detto alla vigilia, questo sarà un campionato molto difficile perché tutte le squadre si sono livellate, si è visto il Frusinone prima col Napoli e poi adesso con l'Atalanta. Sì, anche se queste dichiarazioni a volte passano un po' così, come mettere le mani avanti, non è così, lo penso veramente, credo che noi dobbiamo capire che campionato faremo, credo che il campionato dell'anno scorso è stato un campionato esagerato e dobbiamo stare attenti a fare delle valutazioni sbagliate perché poi ci troveremo male. Grazie. Grazie.